amici e amiche del mio canale youtube eccomi qua dopo un po di giorni semplicemente per parliamo ancora una volta dei playoff di serie b della jalapas e sono qua nella pagina facebook della jalapas perché siamo qui per confermare quello che sarebbe di netto tra virgolette e dico tra virgolette perché in realtà è una cosa che fanno da una vita solo che per quanto riguarda la serie b non l'hanno mai fatta per cui inedito siamo qua per parlarvi di questo inedito format e leggiamo questo post pubblicato 8 ore fa spoiler alert è stata dura ma ce l'abbiamo fatta a mantenere il segreto la jalapas bianco carlo peregati asta che lascia il segno insieme a bkt tylers saranno protagonisti nelle finali della serie bkt con una live reaction sul proprio canale twitch cosa succederà collegatemi il giorno della gara il 26 il 29 maggio e non vi ripetirete o forse sì il 26 giovedì quindi fra due giorni tra due sere e il 29 domenica allora entrambe stiamo parlando del cd della finale di andata di tra il pisa e monza entrambe c'è sia la siera andata che ritorno potete seguire scusate vado nel giorno giusto faccio vedere le cose con ordine sia la siera andata che potete seguire sia sia su sky che sulla zona in video ovviamente con il commento tecnico su sky anche se anche senza commento addirittura monza monza pisa giovedì alle giovedì alle 20 e 30 e domenica domenica sera pisa monza in ritorno la tarappa scommenterà sul proprio canale twitch e che ovviamente vi linkerò in descrizione come sempre la finale di andato e ritorno di play off di serie b e ovviamente ah no qua sotto c'è un video che però se volete vedere anche se in realtà appare solo appare solo il logo di twitch dire play off se volete vederlo dovete andare voi nella pagina facebook della jalapas qua ho questo problema con questo computer portatile i video a forma quadrata con risoluzione quadrata faccio faccio un po fatica a guardare rispetto al normalissimo 16 noni l'importante è sentire l'audio ma ascoltiamo l'audio insomma se aspettiamo un altro po' questo è fare hype come dicono i giovani ma se lo dici tu oh ragazzi ci sono anch'io allora siamo a posto comunque detto tra noi ancora non abbiamo detto nulla è ufficiale siamo su twitch durante le finali play off se non ci seguite peggio per voi dello sistema ripeto se volete seguire se volete guardare guardare il video anche se appare solo andate nella pagina facebook della jalapas e che altro dire insomma il rendimento non c'era nulla e il commento alla finale di play off di sdb andate ritorno sul canale twitch della jalapas vi ricordo che se volete parlare di questa cosa esiste il jalapas forum anche per questa cosa qui vi metterò il link sempre in sempre in descrizione e niente ci fra due giorni passeremo una sera un giorno un giovedì sera in tranquillità e una domenica sera in tranquillità ciao a tutti non ho nient'altro raggiungere ciao a tutti a riccola ciao ciao ciao